12 febbraio 1924, Antonio Gramsci fonda il quotidiano L'Unità, organo ufficiale del Partito Comunista Italiano sino al 1991, nelle intenzioni del suo fondatore il giornale non dovrà avere alcuna indicazione di partito, dovrà essere un giornale di sinistra. Io propongo come titolo L'Unità, puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più generale. Ecco come